Proseguono le operazioni degli uomini della Polizia Municipale e delle Guardie Ambientali del NITA di Agropoli che ieri pomeriggio si sono portate in un'area già controllata precedentemente con i droni risultante come una zona adibita a discarica. Giunti sul posto in località Fonti Alto, gli operanti si sono trovati davanti una vera e propria discarica. Carcasse di auto bruciate, elettrodomestici fuori uso, lamiere, bidoni e tanto altro. Inoltre sul posto vi erano delle capanne adibite a stalle dove gli agenti hanno scoperto la presenza di molti animali da basso cortile mentre in un'altra capanna c'era un greggio di capre. Gli animali dopo un primo controllo risultavano sprovvisti di documentazione e marca auricolare. A tal punto si è dovuto far intervenire l'ufficio veterinario distrettuale che unitamente agli agenti e hanno fatto i loro accertamenti di rito. Le guardie del Nita inoltre hanno identificato sulla stessa proprietà cinque cani e anch'essi senza nessun documento sanitario né microchip. Sono in corso ora gli atti dovuti per tutti i reati riscontrati con l'obbligo da parte dei proprietari di microchippare i cani nell'immediato. L'impatto ambientale di questo scempio è aggravato in quanto adiacente vi è un impluvio dove scende acqua proveniente dalle colline nei dintorni. Oltre a contestare tutti i reati ai proprietari del sito è stato dato l'obbligo di ripristinare i luoghi e di smaltire secondo le norme tutto il materiale ammassato. La Polizia Municipale e le guardie del Nita continueranno a monitorare il territorio al fine di tutelare l'enorme valore della fauna e della flora. Patrimonio di Agropoli, Porta del Cilento.